Ragazzi, benvenuti su Gatshub Drums, sono in compagnia oggi di strumentimusicali.net e non solo, anche di Roland. Ringrazio tutte e due già da subito perché mi hanno mandato una batteria Roland, ovviamente, che farà parlare molto. Voglio spiegarvi il perché. Molti di voi avranno visto il titolo e avranno detto sì, ma a me questa batteria sembra di averla già più o meno vista, mi sembra di averla già vista sul sito Gatshub Drums. Non è così, ma circa. Oggi voglio andare a parlare di una batteria nuova che non ho mai portato, ma qui sul canale avete già visto la sua cugina, diciamo tra virgolette, poi vi spiego bene tutti i perché, ma allora andiamo ad aprirla. Taglierino, come al solito, taglierosso, perché in pratica Roland ha creato una famiglia di batterie che praticamente va a prendere chiunque, va a prendere qualsiasi tipo di studente, artista, eccetera. Adesso, mo' vi spiego bene il perché. Questa qua è la, ve lo faccio vedere così perché non riesco a tirarla fuori perché è bella pesante, la Roland TD-07 DMK. Sul canale vi ho portato la TD-07KV, ma di TD-07 adesso ce ne sono quattro tipologie. La 07 DMK, la 07KV, che è quella che abbiamo già visto, la 07KX e la 07KVX. Tutto è della stessa famiglia, ma ogni batteria ha qualcosa in più. Oggi vi voglio far vedere l'entry level di queste quattro batterie per farvi capire già l'entry level che cosa può fare. Quindi in realtà sono abbastanza curioso di andare a vedere perché voglio capire qual è la modifica di questa batteria rispetto a quella che ho provato e rispetto a quelle migliori. Quindi la 07KX e la 07KVX. Quindi, non sto a farvi vedere mentre la monto, l'unbox, eccetera, perché tanto l'avete già visto ovviamente il video dell'altra batteria con tutto spiegato, lì mi ero proprio messo a spiegare tutto quanto, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Qua voglio andare a vedere le differenze sostanziali. Quando scegliere di prendere questa qui economica? Quando scegliere di prendere magari quella superiore? Il perché e tutte le cose. Quindi io mando la sigla e andiamo direttamente di qua. Tolgo tutto, intanto mentre va la sigla in questi 5 secondi io tolgo la batteria dietro, monto questa. Ci metto poco, ci metto pochissimo. Guardate, guardate. Eccoci qua, ci ho messo pochissimo a smontare la batteria di prima e montare questa qua. Ma, a parte gli scherzi, ci ho messo veramente poco. Ecco, in 20 minuti circa ho montato tutta la batteria, anzi ho smontato l'altra batteria e ho montato questa perché, come tutta la linea Roland TD-07, è super compatta ed è molto 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 semplice da montare. Più che altro questa, in confronto alle altre della linea, mi sembra quella ancora più compatta proprio. Quindi, per chi magari vuole tenere la sua batteria in casa e non ha tanto spazio, questa è veramente perfetta. Detto questo, le differenze di questa batteria quali sono? Allora, prima cosa, mi metto le cuffie. La questione software è uguale, identica alle altre TD-07. Quindi, questa qua, che è quella diciamo entry level, e quelle più in alto, quindi la TD-07KX, la TD-07KVX, eccetera, hanno comunque gli stessi suoni, lo stesso banco di suoni. Quindi... Come avete visto, anche in questa i piatti si possono stoppare con le mani. Anche il Charleston. Questione, come al solito, che mi piace tantissimo dire, le pelli mesh di Roland sono diverse da tutte le altre. Sono molto più sensibili, anche su queste batterie entry level, comunque le pelli mesh, che vanno a prendere veramente qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi colpo. Anche il più piano, anche sui piatti, forse non riuscite neanche a sentirlo, perché è veramente troppo, troppo piano. Ma anche se scolpisco forte così, lui mi prende ugualmente il suono. Quindi, ovviamente, come al solito, un sacco di banchi di suoni. Abbiamo, per l'esaltezza, 25 banchi di suoni, già per impostati 25 da impostare noi, quindi da crearci come vogliamo. Abbiamo decine, decine e decine di suoni all'interno. E quindi, per quanto riguarda il modulo, per quanto riguarda la batteria, è la stessa cosa software, hardware. Invece, le cose che cambiano tra le quattro batterie, di cui vi ho parlato, poi io ho questa, ma vi voglio parlare un po' in generale di tutte e quattro le batterie, la questione è questa qua. Questa batteria qua ha i piatti un pochettino più piccoli, proprio come dimensioni. Poi, appunto, il software è la stessa cosa, ma visivamente un pochettino più piccoli. Ah, il pad della cassa che è attaccato al corpo della batteria, credevo fosse una cosa un po' scomoda. In realtà è super comodo, più che altro perché non si sposta avanti mai, perché essendo attaccato a tutto il corpo della batteria, la cassa rimane ferma lì, è proprio super super solida. E per il resto, queste sono le principali differenze. Per il resto è tutto uguale. Salendo alla TD-07KV, che è quella che ho provato, andiamo a integrare il pad per la cassa con pelle mesh dedicato, quindi abbiamo proprio un pad abbastanza grandino anche per la cassa. Andando ancora su KX, andiamo a migliorare il rullante, quindi abbiamo il rullante, praticamente il rullante della TD-17, quindi con rimshot, con un po' più di sonorità, un po' più di possibilità, sensibilità migliore, eccetera. E andando ancora su alla TD-07KVX, oltre ad avere il rullante per tutte le cose dette fino adesso, ha anche il Charleston a parte, quindi Charleston da suonare insieme all'asta. E non staccato come invece ho in questo caso, anche se comunque... Il Charleston risponde veramente benissimo. Le batterie di solito hanno un po' di problemi con i Charleston, le batterie elettroniche. Zero problemi, veramente, pazzesco, pazzesco. Ottimo Charleston, brava Roland. Poi, ovviamente, se si vuole andare ancora su di livello dopo la TD-07KVX, allora si passerà poi proprio alla TD-17. Non vi ho detto una cosa, che tutti i link che vi servono di questo modello e anche degli altri, ve li lascio qui sotto in descrizione. E anche il video al modello prima, che comunque è sempre della famiglia, lo spiego proprio nel dettaglio. Quindi, avete tutto anche lì. Alcuni punti importanti, sicuramente, di questa batteria riguardano comunque il modulo, che ha un sacco di possibilità. Vi faccio una piccola ricapitolazione. Ha la funzione Bluetooth per poter suonare direttamente sulle canzoni che attivate dal vostro cellulare, ad esempio. Quindi, voi attivate Bluetooth senza bisogno di cavi, eccetera, mettete, che ne so, un video su YouTube, lo fate partire e siete subito pronti a suonare. Abbiamo il kit edit, che ci permette di andare a modificare in qualsiasi modo il mio kit. Perché, ovviamente, vi ricordo che i kit elettronici si possono modificare come vogliamo. Ad esempio, guardate questo kit numero 11, che è reggae. Io ho il rullante, sul rullante, mentre sul tom, ho il rullante col delay. Quindi, io posso andare a fare... Cioè, è veramente molto, molto, molto interessante questa cosa, perché, appunto, posso modificare i miei suoni come voglio, andandogli ad aggiungere anche degli effetti, volendo. Ovviamente, in tutto questo, posso cambiare il pitch, posso cambiare l'intonazione di qualsiasi tamburo, di qualsiasi piatto, eccetera, eccetera. Oltre a questo, una modalità super importante è la modalità coach, che vi ho già spiegato anche nell'altro video. Quindi, non voglio stare qui a rompervi le scatole. C'è il link qui sotto, ovviamente, se ne avete bisogno. E, però, questo ci serve tantissimo per quanto riguarda lo studio. Veramente, è una cosa pazzesca. E, dato che, parliamo di studio, un'implementazione importante che Roland ha fatto è stata quella di Melodics. Melodics è un'applicazione esterna che permette di andare a suonare delle canzoni proprio in tempo reale. Avete presente Guitar Hero? Il gioco in cui si andava a suonare la chitarra e bisognava stare attenti a schiacciare i tasti giusti sulla chitarra, che ti arrivavano uno dopo l'altro. Qua è la stessa cosa, ma per batteria, suonando non sulla batteria di chitarero, ma sulla batteria vera. Quindi, funziona veramente. E, in pratica, voi attaccate tramite USB al vostro computer la batteria. Questo programma vi riconosce i colpi che date, vi dice se li state dando nel momento giusto, a tempo, non a tempo, troppo forte, troppo piano, eccetera. E potete suonare le vostre canzoni preferite. Quindi, oltre al Coach Mode, avete anche Melodics per studiare i brani e per studiare la precisione in tutto quello che suonate. Per finire vi faccio sentire un pochettino di suoni e poi ci salutiamo. Grazie a tutti. Quindi, ragazzi, come avete potuto sentire, i suoni sono veramente una figata. Appunto, la cosa che più mi fa strano è il fatto di avere comunque una batteria economica che mi permette di muovermi in questo modo. Con le pelli mesh, sensibilità pazzesca e il fatto proprio di avere una batteria che suona di brutto, ma senza spendere un patrimonio. Perché poi, alla fine, questa batteria, secondo me, è per chi o sta cominciando a studiare e quindi vuole una batteria senza spendere uno sproposito, ma che funzioni bene. E, raga, questa funziona da paura. Oppure, io la consiglierei, in realtà, anche a chi già suona, ma sta cercando una batteria, magari, da tenere in casa senza occupare troppo spazio. Perché questa, veramente, raga, è un metro per 80 centimetri. Tiene veramente poco, poco spazio. Cioè, la mettete in un angolo e neanche vi accorgete che c'è la batteria. Cioè, vi accorgete perché c'è, ma come spazi, tiene veramente pochissimo. E, più che altro, appunto, anche io, che suono già da tempo, mi troverai bene a studiare su una batteria come questa. Quindi, super consigliata, raga. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net e Roland per avermi dato la possibilità di provare quest'altro kit, perché ero super curioso. Volevo capire, veramente, cosa avesse in meno questo kit rispetto a quello dopo Devo ammettere che, però, mi è piaciuto un sacco questo qua. Contandovi con questa batteria, siamo sulla fascia più bassa tra questa famiglia di batterie. Cioè, è pazzesco. È veramente pazzesco. Non mi aspettavo che, comunque, anche questa batteria qua suonasse così bene. Quindi, appunto, grazie mille ancora strumentimusicali.net e Roland. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale. Vi ricordo che qui sotto avete tutti i link che vi servono. Vi lascio anche un po' di cose di Roland, proprio, che vi possono aiutare. Leggetele così vi dice ancora un po' le differenze tra le varie batterie e tutto. Vi lascio il sito, vi lascio Instagram, tutto, tutto quanto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!